Allora, qua siamo nella città Ödr, è alla fine della Turchia, qua ci troviamo in un piccolo paese che si chiama Melekli, è in vicinanza della montagna Ar, che si può vedere anche qua se noi usciamo di questo museo. Se noi ci giriamo vediamo qua tante cose come per esempio libri che sono già da tanti anni qua, inizia qua di questo parto, da tanti anni la cronologia fino a Noa che è arrivata la barca qua dove c'è anche la montagna come ho detto poco fa che si chiama Are e per me è stato molto bello di essere qua, di vedere tutte le cose, non lo so che devo dire diciamo è molto interessante di vedere tutte le la storia tutte le cose che ci sono state tanti anni fa come hanno fatto le cose come hanno cucinato, le vestiti, tutti gli oggetti che hanno usati. Per me è diciamo una nuova cosa che ho visto nella mia vita perché fino ora ho visto altre cose in altri paesi però qua è stato come detto molto molto interessante mi ha piaciuto e spero che ci piace anche a tutte le altre che vengono qua e vedono questo museo tutte le cose che trovano in queste stanze grazie arrivederci